Benvenuti alla Disney Channel Lula Hop Challenge. Rispondi alle prossime domande mentre fai girare Lula Hop. Pronto per la sfida, Thomas? Sì. Allora fa girare Lula Hop. Cominciamo. Vero o falso? Le banane galleggiano nell'acqua? Vero. Quanto dura una partita di rugby? Ottanta minuti. Di che colore è la maglia indossata da chi è in testa al Tour de France? Zalla. Il calcio ci aiuta A ad avere denti e ossa sani e forti, B a vedere al buio o C a crescere più in fretta? A. In quale percentuale il cetriolo è fatto d'acqua? A 90, B 40, C 5. 90. Esatto! Ottimo lavoro. Tempo scaduto. Come ti senti? Mi sento forte, ho molta energia e sono pronto a ballare. Pronto a ballare? Valli dritto in cima alla classifica con questo punteggio. 5 su 5. Aplale. Aplale. Apl supportive. Grazie.